Buonasera, che cos'è la storia? La storia è la ricostruzione del nostro passato, ma è anche una forma di memoria collettiva e oggi parliamo di memoria. La memoria, l'abbiamo sentito proprio in questa sala fino adesso, è la base su cui costruiamo la nostra identità, sia come individui che come società. Ora, come in una mappa geografica non possiamo trovare i nomi di tutte le località di quella regione, così anche la storia è una specie di mappa in cui non tutti gli avvenimenti vengono registrati pedissequamente, magari a intervalli regolari di tempo, ma solo quelli che la memoria collettiva di un gruppo umano, grande o piccolo che sia, ha interiorizzato, ha strutturato, ha raggruppato, ha selezionato secondo dei criteri di rilevanza, di importanza che naturalmente variano da comunità a comunità. Allora mi sono chiesta, ma quali sono i documenti storici più antichi del mondo, o quelli che in qualche maniera, come spesso succede nel racconto della storia, ci costringono a modificare la mappa della storia, la nostra visione del passato. Bene, le 5.000 tavolette cuneiformi ritrovate nel palazzo reale della città siriana di Ebla, risalenti al 2300 circa avanti Cristo, sono sicuramente dei documenti rilevanti, significativi. Sono soprattutto documenti di tipo amministrativo, quindi registrano ingressi, entrate nel palazzo reale, ma sono anche trattati internazionali, i primi dizionari, ma per farla breve, in qualche maniera hanno consentito la ricostruzione completa, dettagliata della vita politica, sociale, economica, ma anche della vita di tutti i giorni, di questa città che non era nota prima della campagna di scavi fatta dagli archeologi della Sapienza guidati da Paolo Mattia. Prima della scoperta di questa città si riteneva che gli unici due poli importanti di civiltà a quell'epoca fossero la Mesopotamia e l'Egitto. Invece la Siria era considerata una specie di terra di pastori. Allora, diciamo, voi vi chiederete ma perché un fisico, uno che fa fisica astro particellare, ci viene a raccontare cose stranote sulle tavolette di Ebla? E vedete perché i fisici amano strafare. E quindi ritengono di essere sempre più bravi degli altri. In qualche caso sono anche molto arroganti e sicuramente vi assicuro che Sheldon Cooper è un'ottima rappresentazione di certi ambienti dei fisici. Io credo che mai nessuno abbia chiesto «Sheldon, secondo te qual è il documento storico più antico mai ritrovato dall'uomo?» E io sono sicura che risponderebbe «Ah, il documento storico più antico dell'uomo non ha certo i 5.000 anni delle tavolette di Ebla, bensì quasi 13,8 miliardi di anni». Ora, siccome sappiamo che questa è l'età dell'universo, quindi è un documento storico vecchio come l'universo. E che cos'è questo documento storico? È questo, è la radiazione cosmica di fondo, il Cosmic Microwave Background, scoperto quasi per caso da due astronomi, Penzias e Wilson, nel 1965. Vedete, avere fatto questa scoperta è come avere trovato in un vecchio cassetto, della memoria o fisico, un'immagine, un selfie, come oggi diremmo, dell'universo, ma non come adesso, ma com'era ad appena 380.000 anni dal Big Bang, quindi 300.000 anni contro 14 miliardi di anni. E com'è stato possibile tutto questo? Com'è stato possibile scattare questa fotografia? Cosa sappiamo dell'universo? Sappiamo oggi che l'universo è uno spazio omogeneo, isotropo, in espansione, anzi le ultimissime scoperte ci dicono che questa espansione sta accelerando sempre di più, che è nata da Big Bang, che è il Big Bang. Noi fisici, forse per nascondere alla nostra ignoranza, diciamo che è una singolarità, una fluttuazione quantistica di un punto ideale di energia elevatissima. Ovviamente non posso ripercorrere tutte le tappe di questi 14 miliardi di anni, però alcune cose ve le voglio dire. Vedete, nei primi 10 alla meno 43 secondi, è un numero estremamente piccolo, neanche lo spazio e il tempo potevano essere definiti. Quello che si chiama l'era di Planck. Dopodiché c'è un'altra tappa importantissima che avviene intorno a 10 alla meno 35 secondi, tra 10 alla meno 35 e meno 32. Come vedete sono numeri incredibilmente piccoli. Avviene che l'universo improvvisamente esplode violentemente, in maniera vertiginosa, come noi diciamo, esponenziale. Se volete, è questo il vero Big Bang. E allora l'universo passa dalle dimensioni di meno di un atomo a quello di un palloncino, di un pompelmo, che racchiude già tutta l'energia, tutto quello che sarà l'universo dopo 14 miliardi di anni, qui. E allora andiamo un attimo avanti. In questa inflazione succedono delle cose importanti. Per esempio la materia si separa dall'antimateria e perché l'universo adesso sia fatto solo di materia è un altro mistero. Le forze cominciano a differenziarsi. Adesso andiamo avanti. Quando finisce questo periodo, che dura pochissimo, veramente meno di un battito di ciglia, l'universo è ancora caldissimo. C'è 10 alla 27 gradi Kelvin. Finito questo periodo della cosiddetta inflazione, l'universo però continua ad espandersi, non in maniera vertiginosa come prima, ma continua ad espandersi. Espandendosi si raffredda e allora arriviamo a questa tappa fondamentale del CMB che è quando la temperatura dell'universo finalmente si è abbassata abbastanza perché gli elettroni creati prima possano aggregarsi stabilmente, si sono rallentati per potersi aggregare coi nuclei dei primi atomi che si erano creati nei primi tre minuti dell'universo e quindi si formano i primi atomi. E avviene una cosa fondamentale che è la radiazione e la materia che prima erano in continua interazione. L'universo era, sì, caldissimo, questa zuppa primordiale, ma opaco. Con la creazione degli atomi la radiazione e la materia si separano. La radiazione elettromagnetica è libera di muoversi in tutto l'universo, di permeare l'universo. Allora il CMB o radiazione cosmica di fondo non è altro che questa prima luce che ha brillato nell'universo 380 mila anni appena dopo il Big Bang. La sua importanza non sta solo nel fatto che ci dimostra che la teoria del Big Bang è vero, ma è un vero e proprio archivio storico, perché ai cosmologi dice e continuerà a dire sempre di più della nascita e dell'evoluzione dell'universo. Adesso la mappa che io vi ho mostrato prima, dopo la scoperta casuale fatta negli anni 60, in effetti molti altri strumenti sempre più sensibili, con maggiore precisione, hanno ricostruito questa mappa, che è la mappa in tutto l'universo a noi accessibile. E effettivamente ci dice che questa radiazione elettromagnetica è uniforme, in qualunque direzione ne guardiamo dell'universo è uniforme, tranne dei piccolissimi punti, vedete che il colore varia, perché ci sono delle piccole fluttuazioni, delle piccole zone dove questa radiazione è più densa, l'universo era più denso e più caldo. Intorno a questi punti si sono create dopo circa un miliardo di anni le stelle, le galassie e così via. Ora dicevo l'importanza di questo vero archivio storico è proprio che è una miniera di informazioni sull'universo. Bene, l'importanza, cioè questo documento storico quindi, siamo autorizzati effettivamente, come potrebbe dire Sheldon Cooper, è il più vecchio documento storico mai ritrovato dall'uomo. È entrato nella memoria collettiva dell'umanità e vorrei sottolineare una differenza. I documenti storici che vengono ritrovati possono avere rilevanza per una comunità, per un gruppo umano, ma possono averne, e molta di meno, magari per un altro gruppo sociale. Ebbene, invece, questo documento storico, questa scoperta della radiazione cosmica di fondo, ha valore universale, globale, vale per tutta l'umanità. Perché? Perché il risultato di quelle sensate esperienze di cui diceva Galileo Galilei, cioè una verità scientifica. E una verità scientifica non è una verità assoluta, ma è una verità condivisibile, condivisibile da tutta l'umanità. Io mi scuso per questa intromissione da fisico nel mondo degli storici e mi fermo qui. Grazie.